La piazza è venuta abbastanza bene, molto carina, era un po' abbandonata prima, quindi noi ci tenevamo perché Bottega siamo nati un po' qui come impresa. Come amministrazione abbiamo deciso di intervenire e siamo riusciti a fare, secondo me, un bel lavoro. Io sono molto contento, l'ho seguito giornalmente tutti i giorni perché ero contento che si venisse bene ed infatti il risultato c'è. Un abbellimento di piazza Rossini, una ristrutturazione con una possibilità di fare anche iniziative, l'angolo per i ragazzi, insomma direi una cosa importante, davvero per noi straordinaria. Rifaremo anche il mercato, gli ambulanti preferiscono rifarlo qua, quindi si tratta di vedere come far diventare un luogo dove la gente sta insieme, sta a sedere. Naturalmente nel periodo primaverile, nel periodo estivo ci sono delle piante, un percorso, dei negozi, insomma veramente Bottega. Poi nascerà qui a fianco, stiamo firmando il contratto questi giorni, il nuovo teatro, il teatro Giovanni Santi, un teatro di 330 posti. La settimana scorsa abbiamo aperto la pista ciclopedonale, tempo fa abbiamo consegnato un nuovo campo sportivo, le società sportive e poi appena passeranno le feste, l'anno nuovo, inaugureremo il teatro Branca Sant'Angelizzo, rimesso a nuovo. Insomma ecco, passiamo questa invernata per uscire più forti di prima in futuro.